Lo svegliarmi e il rendermi conto che oggi era l'ultimo giorno per la slot Kai Oni speciale, ovvero la slot Kai Fortunata, quella che ti dà più roba interessante, più punti bonus e il mettermi a giocare a Yo-Kai Watch è stato quasi un tutt'uno. Quindi andiamo a fare gli ultimi giri possibili della slot Kai Fortunata con oltre 133.000 monete Yo-Kai. Prima ritiriamo anche tutti quanti gli spiriti e anche il timbro accesso giorno 14 che sarebbe i segreti dell'anima super. Devo ancora decidere a chitarlo perché vale due livelli di energia quindi devo vedere. Stavo pensando a Masterchef ma mancherebbe davvero poco poco per far arrivare Capitan Tuono al livello 4 di Energy. Ma che se dal livello 4 inizia davvero a essere tantissimi danni. Ma per questo video io avrei anche due monete speciali ma per questo video andiamo a fare la slot Kai. Io veramente vorrei prendere, oramai chi mi segue lo sa, Comastar, Kirakoma, chiamatelo come più vi aggrada. Io se lo trovassi mi fermerei a quello a dire il vero però non comparirà mai. È troppo difficile, potrebbe anche comparirmi più in là, giocando più in là però c'è più fortuna di Yo-Kai più sostanziosi. Grazie alla slot Kai Fortunata e mi trovo al regno Yo-Kai perché stavo farmando Luminotto e stavo appunto cercando di dire... Oh, Seidornian, ah interessante. E stavo cercando di reclutare Restat che finalmente ce l'ho fatta. E quindi mancherebbe solo far Favigo da trovare nella slot Kai normale e far salire di livello Gnomino per farlo evolvere in Gran Gnomino al 32. E poi alla fine avrei Sedilfior. Ma Sedilfior si trova anche nella slot Kai Oni. E Shobonian, non mi interro... Non lo voglio, Shobonian, basta! Quanti ne ho trovati? Basta Shobonian, non mi servi. Non ti voglio. Non mi sei utile. Basta. Sedilfior si trova anche nella slot Kai. Quindi se io trovassi Sedilfior se ne andrebbero a quel paese ore e ore di grinding per cercare... Ah, dove si diceva? Per cercare appunto Restat. È che ci ho messo poco, no? Quanti spiriti ci ho sprecato? Insomma, ero a 150, sono arrivato a 0, poi sono ripartito con 60 spiriti, 70... Ci ho messo, insomma, intorno ai 200 spiriti più o meno. Perché poi non è che compare sempre. C'è un livello specifico dove compare, ma non è detto che compaia con una certa frequenza, quindi... E Sedornian. Oddio, non sto trovando abbastanza Sedornian. Se vedessi i segreti dell'anima sarebbe un buon healer, ma... Non uso healer. Ma a questo punto del gioco mi sono reso conto che gli healer non servono a nulla. Proprio per niente. Oh, eccolo! Uila! Nerorco! Bello! Bello! Che bello Nerorco! Non so se è forte, però... Come Yookaie. È bello, è bello Nerorco. Quello che mi ha fatto penare per ben dieci volte alla Boss Rush. E poi dopo lo sconfitto, ovviamente. Ok, ok Eccolo qua, un altro bello No, Domest Gekko Non ti voglio, Gekato Ma chi ti ha chiesto nulla, vai via Basta, non voglio più Domest Gekko Né Seadornian, né Seadornian forse un'altra volta, chissà Ma Domest Gekko e Shobo Non li voglio più, possono anche scomparire Per me Ok, ci siamo, ogni bonus un'altra volta Penso che altre due volte Il bonus ci arrivo Con 93.000 monete, può essere pure Dai, dai, dai Non farmele sprecare tutte Aureo Aureo, non lo stavo allenando L'ho lasciato al 20 O era Lucenio, non mi ricordo, uno dei due L'ho lasciato al 20, perché comunque sia Non sempre capita La boss, la battaglia al boss Attacco a punteggio Dove servono i yokai audaci Oh, Termaia, eh sì Ah, Termaiale S Ok Va bene Va benissimo Che bello Più che altro mi piace trovare yokai nuovi Come ho detto già una volta Per ampliare il medallium E quindi E quindi fare le missioni, no? Tipo, ora devo trovare 210 yokai Non ho trovato i 200 Stavo a 202 Prima di iniziare Ora dovrei stare a 204 205 Ora siamo di nuovo al bonus Con il prossimo giro Fammi uscire qualcosa Di bello Di bello Di bello che piace a me, no? Che piace a te però Eh No, non andiamo da nessuna parte Così Insomma Insomma Arriva al livello 3 L'Energy Max Però Poteva andare meglio Da che dopo questa C'è il bonus speciale Oh, attenzione Questo Come mi ha fatto notare un utente Io non me ne ho raccorto per niente Eh Praticamente È l'Oni Ragabatrax Ovvero Ragabatrax Demonia Quella cosa del genere E purtroppo Da noi Non è stato tradotto Perché Non avevano voglia Probabilmente L'hanno tralasciato È stato un particolare Che non dovevano lasciare Ti prego Guarda Proprio Dai Dai Ma come? Ora è uscito Proprio Proprio Perché? Perché mi odi? Perché gioco mi odi? Non lo so Una volta ho fatto Che so 200 200.000 monete Per trovare il biglietto platino Ma che? Ma che te lo dava? Uh Attenzione Attenzione Non è Kira Koma O Koma Star Però Koma Demone Beh Questo screenshot Va subito Su Instagram Appena Finisco il video Così Più tardi Ve lo vedete il video Oh Più tardi O meglio Oggi è domenica Penso che lo carico per oggi Se mi do una mossa Oddio Dovrei fare Dovrei riuscire a fare Un altro sicuro Di bonus Della slot Kai Certo Certo che 4500 100 punti Di salute Magari Potrebbe servire Ipoteticamente Per un boss Ecco Ecco Questo è un bello Yokai Tarunyan Tarunyan è un bellissimo Yokai Anche tu Andrai su Instagram Grazie per avermi liberato Daremo la caccia ai demoni Ogni volta che lo vorrei Sì Tarunyan Sapete no Il guerriero Che è nato Dalla pesca Insomma Una bella favoletta Che poi Aspetta Era da una pesca No Allora La canna di bambù Era la principessa Della luna E Tarunyan Dalla pesca È nato Tarunyan Mamotaro Sì Tarunyan Lancio sto telefono Cioè Il telefono non c'è una colpa Però mi fa ingacchiare Sì Tarunyan Che ci faccio Con Sì Tarunyan Accidenti Ah Ci arrivo Un altro bonus Della slot tie Yes Sì Ok Tu Vai a posto di Tarunyan Tarunyan Sul Su Instagram Tarunyan Non ce lo metto Ci metto questo Che bello Re Shogun Ah Ho trovato anche Starnyan Ma siccome Lo scorso video Si è cancellato Da solo Non l'ho ammesso Però ho trovato Starnyan Ve lo dico ora Oh Starnyan No Che Shogun Starnyan Starnyan Può anche andare A quel paese Non serve a nulla Più o meno Ok Ok Comagre Ce l'ho troppo Di Comagre Eh guarda Qualc'altro Sale L'Energy Ma se fosse buona Qualcosa Comagre Ok Dovrei Oddio Ci ho altri due giri Non ci arrivo Per il rotto La cuffia E vabbè Farmo un attimino Due monetine Tanto ce ne vogliono Proprio due di nombra Ce ne vogliono Ce ne vogliono Ce ne vogliono Non so parlare Un altro Un altro Un altro Cancane S S Due volte Per mille Giravolte Aspetta Come non ce l'ho Io non ce l'avevo già Cancane Otro Do cancane O S No aspetta Io ce l'avevo Non mi ricordo Vabbè Dopo andiamo a vedere Mo vado un attimo A farmare Veloce Veloce Io credo Che non ci sia Cosa più bella Che terminare La slot kai Oni Una volta per tutte O meglio Almeno per Questa slot kai Fortunata Che non Con il bonus Speciale Oh cavolo No No Lui No Perché Malavo Percepisco Un potere oscuro Provenire da te Ci ha unito Tu devi morire Vabbè Non è che Non ho più Possibilità Di trovare Chi la come Però Non ce l'ho Di meno Vediamo un po' Quanti io che ho Reclusato Fino a 209 Ma perché 209 Pro Perché Miseria Con tutto quello Che ho trovato Tutto quello Che ho trovato Allora Remo Sono curioso Di vedere Un attimo Re Shogun Qua Re Shogun SS Come se Una fosse Divisa in due Riduce i danni Ricevuti Boh Poi abbiamo Comademone Che comademone Grande Un potente Incendio Che brucia il nemico Danni Inflitti 23D Fai schifo Però Sei leggendario E quindi Ti tengo Anche perché Non posso Liberare Nerorco Amico mio Fa scoppiare Una tonal Di Wibwob Con la Spranga Ok Fa pena Anche lui Cancane SS Ora io È nuovo Ma avevo Un altro Cancane Ah Eccolo Cancane M SS Che ha un sacco Di punti salute Accidenti Attenzione però Perché Ah questo Ha lo stesso Effetto di Della seppia Là Di Octoserpe E lui Anche Allora Aspetta però Sfere bonus 4 Ah crea Sfere bonus Lui Mentre Cancane M Creare Grandi Wibwob Ah lui Andrebbe bene Per farmare Le monete Sì 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 Lui andrebbe Benissimo Vediamo un posto Malavo Oddio insomma I punti salute Ci siamo Eh però Attacco Diminuisce il danno Usando il potere Delle tenebre Questa volta Non è proprio Andata male Però Poteva sempre Andare meglio Eccolo qua Stergan Che vi ricevo prima Tributosta Però può sempre Andare meglio Può sempre 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 Andare meglio Ecco qua Taro Nyan Scoppia una diagonale Di Wibwob Con la sua spada Insomma Classico Nyan Debole Sì Dico Debole Perché comunque sia Per Yokei Watch Servono Yokei Piuttosto Forti In ogni modo La batteria è finita Quindi io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video In descrizione come sempre Link per Twitter E anche per Instagram Dove pubblico Aggiornamenti Quasi ogni giorno E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre Domani Con un nuovo video Bye bye Ciao